Partita epica, quella giocata ieri sera allo stadio New Camp di Barcellona, gremito in ogni ordine di posto. I catalani guidati per mano, anzi con i piedi, da un super Messi in serata, li guida con un secco 3-0 la pratica Bayern Monaco, lasciando in preda allo sconforto l'ex allenatore Pep Guardiola. Il risultato sta anche stretto al Barcellona che ha avuto decine di palle gol, spesso sprecate dal pistolero Suarez e bloccate da un Neuer saracinesca che si conferma ancora il miglior portiere in circolazione. Ma nulla può anche il più forte dei portieri se ha davanti a sé un Messi ispirato che nel primo gol prende la mira e col suo magico sinistro pone la palla all'angolo basso alla sinistra del portiere tedesco. Il secondo gol di Messi è d'antologia, la pulce entra in area di rigore, dribbla mettendo a sedere Boateng e poi batte con un pallonetto di destro Neuer. Il ricordo di Diego Armando Maradona investe tutti gli spettatori con uno stadio in osannazione per il loro beniamino. Al 94esimo il gol in contropiede di Neymar con il Bayern tutto sbilanciato in attacco mentre ancor più in sicurezza è il passaggio alla finale di Champions League a Berlino. Ma vediamo insieme le pagelle. Barcellona, Ter Stegen 6, Alves 6,5, Pichet 6,5, Mascherano 6, Alba 6,5, Rakitic 7, Busquets 6,5, Iniesta 6, Messi 8, Suarez 6, Neymar 6. Le pagelle del Bayern Monaco, Neuer 8, Rafinha 6, Benatia 6, Boateng 5, Bernat 4, Alonso 5, Müller 6, Lamp 6, Schweinsteiger 6, Alcantara 5 e Lewandowski 6,5. Con i due gol contro il Bayern Monaco, Lionel Messi raggiunge la vetta della classifica a marcatori della Champions League 2014-2015 con 10 marcature, lasciando al secondo posto la cerrimo rivale Cristiano Ronaldo. Il ritorno si gioca il prossimo martedì 12 maggio in Germania, mentre l'altra semifinale Real Madrid-Juventus mercoledì 13. I bianconeri sognano una finale, magari proprio contro il Barça. Anche nella classifica degli assist o passaggi da gol, la Pulce è al primo posto, confermandosi senza dubbio tra i più forti calciatori della competizione anche per questa stagione della Champions League.